L'associazione IDEM, associazione di volontari che si occupa di disabilità in Alta Vasseriana, ha finalmente trovato una sede. Ebbene sì, notiziona nel senso che è un po' di tempo che cercavamo un posto appunto dove poter fare, poter portare avanti tutti quei bei progetti che in un anno adesso abbiamo fatto. E niente, ci è andata veramente bene, devo dirti perché. Allora, pochi mesi fa è stata inaugurata questa meravigliosa struttura C come casa a Sant'Alberto, in locale di Parre, che è gestita dalla cooperativa sotto sopra. Ci siamo seduti a un tavolo con la Presidente Silvana Catania e il Direttore Stefano Pedrocchi e davvero non ci è voluto molto, anche perché quando trovi un posto così bello a trovare l'accordo, quando due parti condividono davvero i progetti e gli obiettivi, con una riunione abbiamo fatto l'accordo e devo dire con grande soddisfazione che abbiamo la nostra sede in un posto bello, proprio tutto a norma per cui, ed adesso cominciamo, comincia il bello anche per l'Associazione Idem. Cosa farete in questa nuova sede? Come verrà utilizzata? Allora, innanzitutto la nostra sede è composta di due grandi locali dove uno è adibito a laboratorio, chiamiamolo così, dove insieme a noi volontari e così contiamo di ospitare ragazzi disabili e così, a fare dei piccoli inserimenti lavorativi, oppure comunque altre cose, in quel laboratorio lì ci faremo tante attività più legate, diciamo così, al lavoro. Poi invece c'è un'altra bella stanza dove abbiamo la sede, un piccolo ufficio col computer e così delle cose, ma la cosa bella è che abbiamo anche la possibilità di sfruttare due ambienti, due locali al piano di sopra, all'interno della struttura lì della residenzialità, una bella cucina e un salone dove a quel punto lì potremo organizzare tante altre belle iniziative per il tempo libero, per cui feste di compleanno, pizzate, cene in compagnia, dopodiché è tutto da inventare. L'importante è adesso avere un posto, una casa da iniziare a vivere e adesso ce l'abbiamo, per cui da settimana prossima iniziamo e via. Appunto, quando è l'inaugurazione? L'inaugurazione è sabato prossimo 7 maggio alle ore 17 presso la struttura, inizieremo con la benedizione dei locali, il taglio del nastro, ci saranno appunto tutti i discorsi di persone, delle istituzioni, una piccola relazione nostra che presentiamo, quello che abbiamo fatto in un anno e mezzo adesso che siamo nati sul territorio e un bel buffet finale come aperitivo. L'invito è aperto a tutti davvero chi è interessato a vedere anche solo e a conoscerci meglio, a vedere i locali, a conoscerci noi volontari. Soprattutto l'invito è aperto alle famiglie dei ragazzi disabili del territorio. Davvero sarebbe bello trovare giù tanti ragazzi in quella che dovrebbe diventare, tra virgolette, un pezzo di casa loro a breve. Grazie. Grazie. Grazie.